La mia famiglia originaria di Spoleto aveva appena compiuto 33 anni, guidava l'associazione Lombarda dei giornalisti dal 1978. L'hanno colpito con due polpi di pistola alla nuca e alla stena nei pressi della sua abitazione al parco solare. La moglie e con una figlia, un altro figlio di 7 anni, che era a scuola. Eletto di cose, se ne ha lasciato il suo padre Walter, l'Enser per il metto a domani.